Amici di Bracciami Ancora, oggi abbiamo il fuoco alle spalle e tanta carne, guardate qui che banco ma niente ricette, niente carne che sfrigola, oggi volevo presentarvi al volo il nostro libro Bracciami Ancora, la tribù del barbecue, l'ho scritto io e ho provato a raccontare tutte le storie che mi avete mandato in questi anni e fondamentalmente provo a trovare la risposta a una grande domanda ma perché ci piace da impazzire, grigliare? Perché quando guardiamo il fuoco non resistiamo al suo richiamo e perché l'abbraccio ci fa impazzire? Ho provato a dare una risposta su questo libro lo trovate su Amazon, su IBS.it e in tutte le librerie d'Italia Ciao, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi